Per me è molto importante la salvaguardia del territorio, io vivo in un paese meraviglioso. Quello che stiamo cercando di fare è approfondire tutto quello che il nostro territorio ci dà, dai produttori, dai boschi, dalle erbe e cercare di trasmettere quello che abbiamo ai nostri ospiti. Per noi è molto importante approfondire, conoscere le materie prime e quello che ci sta dietro alle materie prime, quindi tutto il lavoro e la trasformazione che ci sta prima, sia che si parli di animali sia che si parli di vegetali.